Un pasto in pieno giorno, a breve distanza dalle auto parcheggiate. Un esemplare di lupo è stato immortalato da Uronzo mentre si cibava di un cervo nel giardino di un hotel. Una volta sazio, si è allontanato tranquillamente, incurante degli osservatori che lo hanno filmato. In diversi paesi del bellunese si assiste con una frequenza sempre maggiore alla penetrazione di esemplari di lupo nelle aree abitate, con una crescente preoccupazione da parte dei cittadini. Così se da un lato si studiano le misure adatte a garantire un equilibrio tra tutela e sicurezza, dall'altro si punta anche sull'informazione. L'associazione Faunisti Veneti APS, insieme al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e PAMS Foundation, per esempio, organizza un incontro per parlare dell'utilizzo e dell'importanza di una corretta comunicazione per facilitare la convivenza tra uomo e fauna selvatica. L'evento si terrà il 5 maggio alle 18 nella sala riunioni del Consorzio Piavedop a Busche di Cese Maggiore e vedrà l'intervento di Anna Sustersich, giornalista scientifica e scrittrice esperta in comunicazione della coesistenza con i grandi mammiferi, e di Bruno Boz, Ivan Mazzon e Roberto Sacchett, ideatori del progetto video fotografico Il Sentiero dei Lupi, nato per documentare il ritorno naturale del lupo nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L'incontro si inserisce in aspettando il Coesistence Festival, un ciclo di eventi che anticipano il Festival della Coesistenza che si terrà in Trentino il prossimo autunno.